Nei secoli sono nate infinite storie sulla leggenda di re Artù, ma l'unica storia che non conoscete è la storia autentica che ispirò la leggenda. Prima di diventare re Artù era un soldato che voleva fare ritorno a casa. Sono quasi 15 anni che combattiamo, la voglia di pace la Cillotta. Prima di diventare regina a Ginevra. Mio padre mi ha raccontato grandi cose su di voi, Artù e i suoi cavalieri. Era una guerriera che combatteva per il suo popolo. Un grande e temibile esercito è venuto a distruggere questo paese. Prima della leggenda. La gente ha bisogno di noi. C'era un uomo che avrebbe unificato una nazione. Questo posto, questa terra è l'ultimo baluardo della libertà, di tutto ciò che ti accaro. Signore, guida la mia mano e la mia spada Excalibur. Sono pronto. Cavalieri, se dovesse compiersi il nostro destino così sia. Ma che la storia non dimentichi che come uomini liberi lo abbiamo scelto noi stessi. Artù, ovunque io vada, sento il tuo nome. Ricordati la mia faccia, sarà l'ultima cosa che vedrai su questa terra. Finalmente un uomo che vale la pena uccidere. C'è un gran numero di bruti qui in giro. Non gli permetterò di molestarti. Sì. Grazie a tutti.